siamo pronti per partire? caricato tutto? guarda, fino all'ultimo spazio capirà guarda qui le cosine piccoline questo è il suo armadio questo è il mio armadio qua abbiamo asciugamani e coperta qui bagno 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 sta super pieno andiamo 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 this is what we waited for take my hand we'll make it somehow we can't miss out